ciao a tutti bentrovati al nuovo episodio di soul park ps3 andiamo a vedere di risolvere un po' la cosa qua fatto due o tre scoregine vengono a casa ma niente non succede niente di che wow oh my god corriamo 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 oh no oh no oh no oh no This is private property, sir Feel that righteous fury Ow That wasn't so bad Oh 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 Ok Ucciso E siamo entrati finalmente Ok abbiamo ottenuto qualcosa Bene Basta adesso combattere anche con questi Per adesso Per adesso entriamo Queste cose da rompere In verità Non so Cosa siano A parte quei consumabili La No consumabili Insomma Quei Che Sì Chissà Cosa 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 I I Yeah Can I help you What's this? Oh, y'all stick again? Hang on a sec abbiamo trovato questo token possiamo andarsene da qua non 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 Ah ok, devono tornare indietro Ha tornato dentro il babbione Altro combattimento, stavolta proviamo di fargli il sederino Let's go asshole Ecco l'ha curato, non è una bella cosa Hurry up! Yeah that's it little buddy Man, I could be watching TV right now This sucks Come on We're still doing this right? Stop dicking around I'm good Ok Direi che Vediamo da che parte siamo della mappa Dobbiamo scendere e andare dove è il bar Dico, ho perso il bar Il caffè insomma no? Ah ok Andare dritti Scendere Vabbè, andiamo Andiamo a vedere come è fatto il cinema Armi e costume richiedono che tu sia a un certo livello per utilizzarli Necessari come occhiali e parrucche possono sempre essere Noi Rob Schneider era un animale E poi era una mamma E ora Rob Schneider è... Un stavolatore E si stavolatore E si stavolatore Che essere un stavolatore È più difficile Rob Schneider è... Un stavolatore Rated PG-13 Ero 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 Devon Giordano Che Per rompere certi sisulini non ho neanche idea come fare perché c'è della gente Andiamo avanti usciamo Un'altra guerra secondaria Siamo in una città di un'altra guerra E ora faccio un amore Questo è molto prestigioso Ma non ti ringrazio a nessuno Sono super ethereal Hurry, dobbiamo sapere se il ManBear Pig è qui o non Adesso andiamo intanto a fare Vediamo cosa mi dice di fare Qua una guest Attacco un sensore per l'humor So maiale a uno trasformatore elettrico Dove sono? Ah uno è là Vabbè Uno è qua E l'altro è lì, sono tre Nemici in fiamme subiscono danni Ogni turno diventano particolarmente vulnerabili Alle scorreggie magiche Bene Benvenuti a Tweak Coffee Coffee made with ingredients supplied by local organic It's local coffee Brewed locally Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? I can't get that I'm still trying to do all my chores Well hurry up son Ok andiamo a contattare anche questo Tweak No vabbè No vabbè Abbiamo già comprato sufficienza Cambiamoci un po' Ma questo è a livello tre CheLC Ho Lotta Il Tu Cos Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè, c'è tanta roba qua da mettere a posto. Guardate quanta roba c'è, i capelli, queste cose qui. Ok, quindi praticamente quando si torna a togliere la roba... Beh, ok, andiamo, mi ha perso anche troppo tempo. Eccolo, il nostro... C'è questo? Ah, ora? Ok, ora? Tuic. Eccolo. 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 E porca miseria, quanta strada c'è da fare. Quindi dobbiamo andare giù. Eccolo. 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 ok vediamo se ho capito come fare a poter trasportarci velocemente vediamo forse non ho capito un piffero comunque va bene a noi siamo andati abbastanza vicino sono un altro quindi da qua si va a casa di Cartman si esce di la perché è vero che la casa di Cartman è il centro di tutto andiamo un po' perfettamente dobbiamo andare la per adesso rimani lì cioè questo è un ebreo un mormone buongiorno ok 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 ci siamo voglio equipaggiare ah no quello lì non lo posso equipaggiare il manganello guardate cosa c'è qua nascosto l'ho visto il pelo ci sono questi due stronzetti qui da andare a combattere oh tre vediamo se siamo intanto azzeliamo questa ok siamo al posto dove dovevamo arrivare con questo video ci salutiamo qui ci vediamo al prossimo video vediamo di andare a andiamo a leggere consegnare questa lettera ok qua sono dei ah ok tesori ok vai a casa di Kenny chiedi alla mamma di Kenny della consegna per la miscela di tweakers ok ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao